Qualche giorno fa una nostra giovane elettrice di Milano ci ha inscritto per informarci che un paio di giorni prima era stata minacciata, bistrattata da un genitore che stava accompagnando il figliolo a scuola e quindi ci chiede che cosa può fare, come può reagire. Il problema è certamente molto complicato, non può essere esaurito in poche battute, però un primo suggerimento che possiamo dare a questa collega è il seguente. Noi diremmo che può essere il caso di fare una sintetica relazione indicando con precisione la data, l'orario, ripetere, scrivere le parole che sono state dette dal genitore nel modo più fedele possibile, eventualmente segnalare se a questo evento ci sono state dei testimoni, firmare la relazione, consegnarla in segreteria e dopo una decina di giorni chiedere al dirigente scolastico l'esito di questa segnalazione. Certamente il problema è complesso, ci ritorneremo anche con i nostri articoli.